Eccoci qui, poiché diciamo che la mia sete di stupidità non trova proprio fine, eccomi qui a suggerire a voi che vi piace stare in piastricciaro queste mano nelle farine, negli zuccheri, nei burri, a insugnarvi i pomeriggi. Presto, perché non fate questi biscotti, di cui vi suggerisco il nome, questi biscotti che mancano sul mercato, i pavidoni. I pavidoni sono questi biscotti che tu li infili nel latte e quelli si ritraggono, il pavidone si ritrae, se ne ritorna in der guscio, in der sé, e non proprio si astrae completamente dalla relazione. Ed ecco qua, diciamo, il pavidone che ti diventa metafora, correlativo, oggettivo, di tante relazioni che abbiamo tra di noi esseri umani piacevoli. Sì, è da capire anche questo, la relazione in sé vale la pena, ma anche questo, anche questo, eh? Ma dai, ce lo diciamo un'altra volta l'anno prossimo, e dai, ci siamo quasi, arrivederci!